La fase 2 ha preso avvio ma ancora molte sono le incertezze su come ripartire e come poter applicare tutti i protocolli di sicurezza previste. In alcuni casi ancora la data per la riapertura non è certa, penso per esempio agli acconciatori e le estetiste perché è stata data la data del 14 maggio ma per essere confermata bisogna prima attendere l'esito di una simulazione che le autorità sanitarie faranno di qui a qualche giorno e poi potrà essere data come è data, per adesso il 14 maggio rimane una data ipotetica per tutto il settore benessere e quindi acconciatori, parrucchierie ed estetiste. In questi giorni CNA ha avviato una serie di videoconferenze per informare mestiere dopo mestiere di tutte le novità, di tutti i protocolli previsti e insieme con i nostri esperti abbiamo fatto delle videoconferenze in diretta sul settore della moda, sul settore degli alimentari, quello degli autoriparatori e quello dei cantieri edili che è risultato uno dei più complessi da applicare. Visto l'interesse che c'è stato per queste videoconferenze abbiamo deciso di registrarle e di pubblicarle e reste disponibile a tutti gratuitamente sul nostro sito internet di CNA Macerata. Altri appuntamenti saranno giovedì 7 maggio con un video incontro sul crowdfunding, venerdì 8 maggio parleremo invece della riorganizzazione aziendale, martedì 12 sarà la volta del social media marketing, mentre giovedì 14 sarà trattato il tema del marketing del passaparola che sembra sia il più efficace nonostante le tante tecnologie. Consigliamo comunque di vedere sui nostri siti e sulla nostra pagina facebook gli appuntamenti e anche i link per partecipare gratuitamente a questi incontri informativi della nostra associazione.